e dopo 40 giorni quasi a male 40 giorni e il ritorno sono 8 giorni e poi via il ritorno basta e allora e allora e allora Sì 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 A destra Già Sì andate bene guarda qua, hai visto la roba nuova a lei usava e un partito a scuola una macchina di Stato solo che tribulava al fine ma si dà la vite andate bene ci hai vato ci hai vato ci hai vato non hai vato con te non hai vato non hai vato hai vato rispito non hai vato è un progetto Sì, sì, è meglio a pietra di pietra, non sarà bene andare la borazza, non sarà bene la borazza. Sì, sì, è bene. 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 E' un taglio! E' un taglio!